kate duchessa di cambridge non è una principessa nonostante sia uno dei membri più amati della famiglia reale ma perché esattamente non è una principessa kate duchessa di cambridge un giorno siederà accanto al principe william quando salirà al trono la prima moglie del principe carlo era ampiamente conosciuta come la principessa diana ma la duchessa di cambridge non è conosciuta come la principessa kate allora perché è esattamente questo il caso kate duchessa di cambridge è entrata a far parte della famiglia reale nel 2011 quando ha sposato il principe william punto punto la coppia si frequentava da diversi anni dopo essersi incontrati all'università da allora hanno avuto tre figli insieme il principe george la principessa charlotte e il principe louis ma in una famiglia di principi e principesse kate non è l'unica a non essere conosciuta con il titolo di principessa dopo il matrimonio del principe william e kate nel 2011 la regina ha conferito a william un ducato questo ducato ha dotato la coppia di un nuovo nome facendoli diventare il duca e la duchessa di cambridge ma questo non è l'unico titolo che detiene quando in scozia kate è conosciuta come la contessa di straterne mentre in irlanda del nord è conosciuta come lady carrick fergus nella famiglia reale le donne reali detengono i seguenti titoli reali nonostante la sua statura e posizione kate non è ancora conosciuta come la principessa kate tipicamente il titolo di principessa è riservato ai discendenti biologici del monarca regnante ciò significa che la figlia di kate charlotte è in grado di usare il titolo di principessa dove non lo fa le seguenti donne reali tutte direttamente imparentate con la regina detengono il titolo di principessa a pieno titolo principessa reale principessa beatrice principessa eugenia principessa carlotta molti osservatori reali sono stati pronti a sottolineare che diana principessa del galles non era una parente diretta della regina e tuttavia era conosciuta come la principessa diana punto tuttavia questo non è mai stato il suo titolo ufficiale invece è stato un nome dato ufficiosamente dai membri del pubblico a causa di quanto fosse amata la principessa diana era ufficialmente diana principessa del galles prendendo il suo titolo dal principe carlo e il suo ruolo di principe di galles per usare ufficialmente il titolo di principessa diana sarebbe stata la principessa carlo prendendo il titolo da suo marito ciao Grazie a tutti.